Tanto grazie del benvenuto, sono molto felice, motivato e non vedo l'ora di scendere in campo per questi colori. Ma è un girone che ho fatto, totalmente diverso, quest'anno il livello si è alzato, penso è arrivato il Palermo, la Ternana va forte, il Bari, anche noi comunque abbiamo una grande squadra, vengo qui per rilanciarmi al massimo, l'unica cosa che posso dire è che darò tutto. Io nasco esterno offensivo, lo scorso anno diciamo che ho ricoperto tutti i ruoli davanti, ho fatto il trequartista, a Cittadella facevo anche il sottopunta, sono un giocatore che mi piace attaccare la profondità e puntare l'avversario. Saluto i tifosi del Catanzaro e dispiace che non sono insieme a noi ad esultare, a spingerci, però li saluto e ci rivedremo presto.